Hello, here is Wangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry, with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Pesante, chili. Lasciate che il traffico di Chengdu sia un ingorgo di hot pot. La coda media giornaliera è di 3 ore. Ed è sempre al primo posto nella lista delle pentole calde. Vieni a Lanzo Utilde. Il fondo della pentola è dotato di bistecca ed è pieno di 15 ingredienti. La zuppa viene bollita con ossa di tubo e ingredienti fritti a mano per 20 anni. 50 più piatti classici shabu shabu. Tutti senza pestare le mine. Aprire prima la pentola per aprire la fortuna. Aprire la pentola prima della prima fortuna. Nato nel 1998 papà a materiale fritto è stato ereditato 20 anni fa alla ricetta esclusiva. Sul fondo della pentola quando il cameriere dirà anche in sequan soup for pot. Pentola calda il più piccante il meglio tilde. Il fondo della pentola ha un pieno 4 libre di burro. Versato sul tubo quotidiano zuppa bollente osso. L'interno ha effettivamente il vino. Questa grande mano di incenso non è facilmente replicabile. Il fondo della pentola è dotato di bistecca. La pentola viene fornita con due bistecche intere grandi della Nuova Zelanda. Marinate durante la notte in 15 spezie. E poi cotte in una grande pentola per più di due ore in una sola mossa. Aprire la pentola e cuocere per 3 minuti per mangiare. Cotto bistecca croccante gustoso e gommoso. Un morso incredibile. La bistecca non è abbastanza per aggiungere. Una pentola piena di standard 5 cm bone in bistecca. Una mezza libra piena. Shabu shabu 20 secondi per mangiare. Solo 58 yuan. Per essere in grado di stufare così saporito ancora chiaro carne e ossa non si separano. È davvero un lavoro tecnico. Un morso a mangiare una pentola non è troppo. I fiori di soia sono macinati freschi ogni giorno. Il fondo della pentola con il fiore di fagiolo è anche un grande. Quotidiano a mollo più appena macinato un pieno 24 ore per produrre il fiore di fagiolo per ripristinare la gamma completa di sapore sequan. Cotto morbido e tenero con bacchette una clip sulla rottura. Il gusto è delicato ed elastico. Ma non perdere il sapore originale dei fagioli. Ma anche per fai da te è un bambino autentico vecchio fiore di fagiolo. Manzo tenero con latte. Vero manzo tenero con latte. La carne è tenuta ad uno spessore di 2 cm. E si fa un bagno di latte prima di metterla nella pentola. Che si chiama noodles di bistecca. Cuocere per circa 3 minuti e iniziare a mangiare. Il latte nutre il manzo e lo rende tenero ed elastico. E ogni morso è un lusso. Tubo di bambù piccolo fegato della contea. Spiedini a tubo di bambù. Una presa anche un grande. Questo piatto davvero lasciare i giocatori spiedino sopra la dipendenza. Il fegato della contea e i peperoni verdi e rossi sono distribuiti uniformemente sugli spiedini. Il croccante fegato della contea è fresco e piccante ma completamente in odore. Due morsi a spiedino senza sforzo. Hot pot shabu shabu tutto. Il piccolo manzo grasso del pascolo di Ximeng. Gli slider di gamberi appena battuti. Le polpette tenere e deliziose. Ognuna delle quali è fatta con gli ingredienti più compiuti. Tutto può essere shabu shabu. E papà ha più di 60 tipi di piatti caldi con ingredienti fritti. Quindi non importa cosa sia. Shabu shabu. È ovviamente il ristorante di pentole calde più popolare. Ma i dolci e gli spuntini all'interno hanno afferrato lo stomaco e hanno dovuto essere messi via per i più piccoli dopo aver mangiato. Tavolo bianco finestra rossa e lo standard retro. Non è come se indietro all'infanzia. Seguimi continuare ad andare dentro tilde cucina con piena trasparenza. La preparazione del cibo per il cibo tutto sotto gli occhi. In modo che la gente mangia a proprio agio. Guardare anche confortevole. Indirizzo Kaochang Street New District Building 3 Ungrado Piano Di fronte alla caserma dei pompieri in via Kaochang If you are interested in our videos, remember to follow us. Romguk More Than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.